Benvenuti a tutti Logistics e Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo brevemente come si creano dei biglietti da visita con un foglio di videoscrittura. Noi utilizziamo Libre Office Writer e lo strumento che viene definito testo automatico, in particolare sono i modelli di documento di Microsoft Office Word. Praticamente la meccanicistica è assolutamente la stessa. Allora facciamo così, mettiamo subito l'allineamento del paragrafo al centro, facciamo un invio, vedete che noi utilizziamo questo strumento qua, il pi greco, che è uno strumento che indica i confini del paragrafo. Andiamo nel menu strumenti, facciamo testo automatico e fra i vari modelli di documenti, vedete ci sono i biglietti da visita, i documenti standard eccetera, noi scegliamo per esempio il classico, perché è quello che utilizzo sempre e mi sembra quello fatto meglio. Clicchiamo subito inserisci, vediamo questo è un modello di documento che automaticamente costruisce all'interno del foglio di videoscrittura un modellino per un biglietto da visita. A me piace subito fare così, andare al centro, fare cance per unire questi due blocchi, perché questo modello di documento è creato, è costituito da due tipi di tabelle, la prima tabella che è l'intestazione e poi questi dati. Mettiamo subito il nome, ci scriviamo ad esempio Mario, quindi è sufficiente cliccare questi campi grigi per sostituire il valore di esempio con quello voluto. Scriviamo rossi, facciamo così, facciamo per bene, poi quello che vogliamo, per esempio noi possiamo anche indicare qui che questo sta al centro, mi piace, anche questo voglio che stia al centro e ci scriviamo per esempio come carica Linux Expert, perché questo è un canale che parla quasi solo di tecnologie open source e di Linux e facciamo qui la nostra compagnia e ovviamente il nostro canale Logistics Analytics e qui ci scriviamo, no? Video tutorial, video tutorial in YouTube, questo è il nostro lavoro. Noi che cosa stiamo facendo? Stiamo compilando un modello di documento preformattato, diciamo adattandolo alle nostre esigenze. Quindi abbiamo, stiamo cambiando tutti i campi grigi, il nome, la carica, il nome dell'azienda e diciamo è quello video tutorial, esatto, l'abbiamo scritto bene, è quello che l'azienda fa. Di solito mi piace prendere questa serie di celle, fare tasto destro, unisci celle e poi andare nel menu formato e cercare la voce allineamento e allinearlo sia al centro dal punto di vista verticale, sia al centro per esempio dal punto di vista orizzontale e mi piace qui inserire un'immagine del bigliettino della visita. Quindi andiamo in inserisci, l'immagine e scegliamo, siccome è una compagnia che si occupa di Linux, scegliamo il solito pinguino. Vedete che l'immagine può essere inserita all'interno di una cella di una tabella, in pratica questo biglietto della visita non è altro che una tabella, si formano le maniglie blu, si prende la maniglia e si riduce l'immagine e vedete che viene ricollocata correttamente al centro. Allora che cosa facciamo? Lasciamo restare tutti questi dati, abbiamo capito che è sufficiente cliccare nei campi di testo grigio e poi cambiarli, quindi si adatta l'email, il nome di telefono e l'indirizzo, ma adesso noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo risparmiare un po' di carta, cioè all'interno del formato A4 noi ne vogliamo stampare più di uno, altrimenti è uno spreco troppo grande. Quindi aspettiamo, quando diventa la freccetta blu, selezioniamo, facciamo CTRL-C, copia sulla tastiera, CTRL-V e vedete che abbiamo appena creato, e poi facciamo cance, abbiamo scopiato la prima parte, poi andiamo qua, quando il cursore, vedete, diventa la freccia nera, selezioniamo, CTRL-C, andiamo qui, mettiamo al centro, CTRL-V ed ecco che abbiamo creato un altro biglietto della visita. Come sempre andiamo qua e adesso con cance eliminiamo quella distanza perché non ci piace, abbiamo creato due biglietti da visita. Continuiamo velocemente, selezioniamo quando la freccettina diventa nera e poi facciamo CTRL-C, CTRL-V, che sarebbe no, copia e incolla, prendiamo la seconda parte della tabella, quando la freccettina è nera, CTRL-C, andiamo qui, mettiamo il cursore al centro, CTRL-V, copia e incolla e qui eliminiamo un'altra volta, ne abbiamo fatti tre, vediamo quanti ce ne entrano, continuiamo ancora, selezioniamo, CTRL-C, andiamo qui, invio al centro, è un pochino meccanico ma dopo che l'abbiamo fatto una volta noi salviamo il documento e quindi avremo i nostri biglietti da visita pronti. Quando la freccina diventa nera, CTRL-C copia, andiamo al centro, CTRL-V, incolla e cancelliamo lo spazio, vediamo se ce ne entra un altro, proviamoci, andiamo a capo, facciamo così, mettiamo al centro, allineiamo, ancora una volta vedete il cursore alla forma della I, andiamo qui, si trasforma in nero, riproviamoci che ci ha fatto un salto, si trasforma in freccia nera, selezioniamo CTRL-C, questo serve per selezionare più celle all'interno di una tabella, CTRL-V, facciamo così e nella stessa maniera andiamo a selezionare la seconda parte, quando la freccina diventa nera, selezioniamo CTRL-C copia e CTRL-V incolla ed eliminiamo questo cursore. Adesso vediamo quante ne sono venute, 1, 2, 3, 4, 5, sono 5 entità, ci va bene in una pagina, abbiamo abbastanza risparmiato, prima di stampare si va sempre a vedere nei fogli di videoscrittura l'anteprima di stampa, andiamo a cliccarla, facciamo uno zoom e vediamo come sono venuti, vedete che il bigliettino da visita carino si stampa in cartoncino e lo si taglia con le forbici, è una maniera velocissima per fare questa entità, eccoli qua, e per risparmiare un po' di carta, forse se ci fossimo organizzati un po' meglio avremmo fatto due file da 5, ne sarebbero entrati 10, ma questa è soltanto una video guida per far vedere come si fa. Chiudiamo, ricordiamo che abbiamo utilizzato nel libro Office Writer, ma la stessa cosa c'è il modello di documento all'interno di Microsoft Office Word, lo strumento per esempio che si chiama testo automatico, in particolare all'interno del settore biglietti da visita abbiamo usato il classico con nome. Il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.